Buonasera, sono Anna Bonifiglio e sono qui perché sono stata invitata da Adelaide, la nostra autrice, che stasera ci fa dono di questo bellissimo libro che racconta della sua avventura, diciamo un po' faticosa, però anche un'avventura che l'ha portata a cambiare un po' anche il suo stile di vita e quindi le dobbiamo fare i complimenti. Io sono qui non come avvocato ma come mediatore perché mi occupo, abbiamo un'associazione che si occupa proprio di gestione dei conflitti e di gestione delle emozioni e quindi tecniche comunicative. Lei ha partecipato qualche anno fa ad uno dei nostri corsi e mi ha invitato qui proprio per dire un po' cosa significa gestire le emozioni. Quindi io parlerò proprio delle emozioni che servono anche per farci non ammalare e quindi eventualmente anche farci guarire. Grazie.